La felicità nel mio lavoro. Mi viene chiesto questo e effettivamente è un concetto soprattutto secondo me molto anche di contatto con la natura se vi guardate un po' attorno fortunatamente questo luogo fa venire voglia di venire al lavoro secondo me poi a parte l'aspetto poetico c'è comunque una preparazione di fondo che nasce da una passione credo che ogni lavoro ogni professione debba essere mossa da una passione fondamentalmente grazie a questa uno decide di diventare competente in quello che vuole poi fare in un futuro nonostante le oggettive difficoltà dico difficoltà perché comunque pensando a me che sono una donna in un mondo prettamente agricolo e fortemente maschile il fatto di aver voluto raggiungere questo obiettivo quindi essere un enologo e un agronomo ha comportato ovviamente la volontà anche di mettermi in gioco per certi aspetti che sono prettamente più mascolini di questa professione ma non è un limite questo credo che sia un po' la sfida in certi settori in un settore come nel mio di poter cogliere la bellezza anche della sfida attivamente il mettersi è in gioco sta proprio lì nel coraggio di non arrendersi a dire caspita però è prettamente maschile ma il fatto di credere di voler fare questa cosa faccio volentieri il mio lavoro sempre sono appassionata di quello che faccio perché ogni anno è un anno a sé io sono semplicemente uno strumento ritengo sempre che siamo sotto il cielo io ogni anno devo adattarmi a quello che che sono le condizioni meteo ed è forse questa la bellezza di questo lavoro il fatto di non essere poi così comandanti diciamo cioè di dover accettare se doversi adattare le condizioni alla situazione alla maturazione a tanti piccoli aspetti che mi fa rendere conto di non avere poi sempre questa capacità decisionale ma di dovermi un po più adattare e forse questo il bello che che vivo la capacità anche di adattamento nel lavoro che poi sempre una scoperta il sapersi adattare perché non si sa cosa cosa succede